Focorrain, qui Squadra Bravo. Mandateli in forzi! Sembra che ci sia una breccia nel giro. Capitano, ha visto quelle lapidi? Ha idea di cosa siano? Sembrano antiche. È sicuramente la Squadra Bravo, ma le tracce finiscono qui. Non possono scomparire. Muoversi, muoversi, muoversi! Attenti! E ora dove siamo? Ti ho detto che la tempesta ci aveva portati da qualche parte. Ragazzi! Quindi, siamo i guardiani della galassia adesso. A ora sei! Diabross. Porca... Hai visto quella bestia? Indietro! Non mi pagano abbastanza per queste stronzate. Non mi importa. Che cosa è quella bestia? Dobbiamo distruggerti. E chiudere il portale. Dobbiamo tornare a casa. Dobbiamo tornare a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.